Sette imputati rischiano condanne complessivi di 117 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito del processo derivante dell'operazione Malea. L'inchiesta condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla procura distrittuale antimafia di Reggio Calabria ha svelato la presunta esistenza di un'organizzazione criminale legata all'andrangheta di Mammola detita al controllo del territorio attraverso estorsioni e traffico di droga. Le richieste di condanne avanzate dal PM Giovanni Calamita riguardano Damiano Abbate, 20 anni, Salvatore Nicodemo Abbate, 16 anni e 8 mesi, Isidoro Callà, 20 anni, Ferdinando Cimino, 15 anni, Fabrizio D'Alessandra, 8 anni, Nicodemo Deciso, 18 anni e Rodolfo Scali, 20 anni. E' stata invece chiesta l'assoluzione per Raffaele Romeo. L'operazione ha documentato tramite intercettazioni come l'organizzazione criminale influenzasse attività economiche, in particolare nel settore boschivo, finanziandosi anche attraverso la produzione e il traffico di stupefacenti.